ciao ragazzi questo video per presentare il prossimo workshop che avrà come tema il ritratto come sa chi ha già partecipato ai miei corsi aspetto saliente sarà nei riferimenti con i grandi della fotografia da nadar a henry cartier bresson o da mappeltorpe a annie laibovitz il workshop si svolgerà in una giornata la cui mattinata sarà dedicata all'aspetto teorico relativa all'approccio con la persona fotografata alle varie possibilità espressive e alla tecnica necessaria il pomeriggio invece sarà dedicato alla messa in pratica di quanto affrontato in mattinata creando piccoli gruppi di due tre allievi che si fotograferanno a vicenda sul sito poi troverete tutte le indicazioni necessarie all'iscrizione e ai costi vi aspetto